Una pensionata di 93 anni e il figlio di 53 anni sono rimasti gravemente feriti nell'incendio divampato nella tarda serata di ieri all'interno della loro abitazione ad Aragona, nell'Agrigentino. La donna è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio nella città dei Templi. L'uomo è stato trasferito con un elicottero del 118 di Caltanissetta all'ospedale Cannizzaro di Catania. Entrambi, oltre che a riportare gravi ustioni, sono rimasti fortemente intossicati dal fumo che si è sprigionato dal fuoco. A portarli fuori dalla casa sono stati i vigili del fuoco di Agrigento. Il rogo, secondo i primi rilievi, sarebbe divampato da una stufa a gas che era stata posizionata vicino a un divano dove forse si trovava il 53enne. L'anziana invece probabilmente era a letto. Madre e figlio hanno tentato di uscire dall'abitazione ma sono stati bloccati all'interno per il troppo fumo presente. A richiedere l'intervento dei soccorsi sono stati alcuni vicini di casa allertati da un'esplosione, quella di un condizionatore, alla quale hanno fatto seguito quelle dei vetri dell'abitazione. Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri.